In provincia di Parma si trova il Montanari Training Stable, stazione di monta e allevamento di cavalli Quarter Appalooza Train Tools, gestito da Roberto e Serena Montanari. L'allevamento seleziona cavalli da Morfologia, Western Pleasure, Arter, Osmanship e Showmanship. Impress Scratch T, Skipper Roman, Paul Jay, Donald Dixon, questi sono alcuni nomi che hanno reso questo allevamento famoso in Italia ed in Europa per i tanti risultati ottenuti. Roberto Montanari, trainer riconosciuto in tutta Europa, a destra cavalli da passeggiate e da competizione e inoltre leader in Italia nella preparazione di soggetti da Morfologia. Presso il Montanari Training Stable operano stalloni tra i migliori in Europa, seguendo un serio programma d'accoppiamento, grazie anche al professionale appoggio fornito dalla clinica di stella. Musica 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 Campionessa di Western Pleasure in circuiti italiani ed europei, Serena Montanari condivide con il papà, l'amore per i cavalli, l'allevamento e l'agonismo. Musica 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 E come amano dire papà Roberto e Serena Montanari, con un soggetto del Montanari Training Stable non ci saranno limiti. Musica Potrete divertirvi passando dall'Alter al Western Pleasure, passando per Somanship ed Osmanship. Musica E chissà, se amate anche la monta tradizionale, potrete mettervi alla prova anche nelle gare di Anta, perché i nostri prodotti sono cavalli a 360 gradi, che permettono di avere soddisfazione agonistica sin dal primo anno di nascita. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.